siamo in diretta siamo in diretta su cosmo fruttariano con l'avvocato antonio pimpini ciao antonio come stai buona ciao ma come stai io tutto bene grazie a dio sono l'audio mi sembra buono immagino hai lavorato oggi è tutto cassazionare no sei avvocato cassazionista no vabbè ma quello è un dato semplicemente legato all'età purtroppo non ha meriti senti oggi parliamo di signoraggio bancario e magari se ci avanzano cinque minuti voi puoi commentare le alcune sentenze che magari poi ricordo io come tribunale penale di pisa tribunale penale di milano dove hanno tutte cassato la normativa covid che è senza fonte giuridica e tar una marea di tar una marea di giudici di pace magari cinque minuti finali certo certo possiamo allora anzitutto ti ringrazio per avermi dato l'opportunità ancora una volta di diffondere quel grande il pensiero di quel grande personaggio che il professor auriti che appartiene a quella schiera di persone che non dovrebbero morire mai e che in realtà non sono mai morte perché rimangono sempre indelebili loro insegnamenti ora il problema di fondo oggi è sostanzialmente quello di capire la grande attualità del suo insegnamento e io credo che debba essere fatto su una su una questione molto importante cioè sulla differenza che c'è oggi come oggi nel sistema finanziario nel sistema monetario internazionale noi sappiamo che purtroppo ogni nazione non ha la sovranità monetaria perché la ceduta ha dapprima ad un ente privato che era nel caso nostro la banca d'italia e poi al sistema delle banche centrali europee questo vuol dire che lo stato parte già con un handicap incredibile cioè quello di non avere la sovranità monetaria quindi di non avere la capacità di approvvigionarsi se non andando a bussare a denaro a chi invece di darlo perché lo stampa e da lo presta allora il problema è la cessione di sovranità e e contestualmente la differenza che c'è tra banco nota e nota di stato perché faccio queste due preliminari distinzioni innanzitutto perché noi sappiamo che una uno stato senza la sovranità monetaria e uno stato monco uno stato che deve andare a chiedere l'apertura di un rubinetto a chi ha la possibilità di chiuderlo aprirlo secondo il suo piacimento il che vuol dire sostanzialmente che la banca centrale europea è una tipografia che tuttavia si arroga il diritto di proprietà del valore monetario perché fin tanto che assume come assume infatti con il copyright il diritto di proprietà sul simbolo o lo paga anche ad un privato il problema sarebbe del tutto marginale perché il simbolo come tale è un valore che non 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 ha un valore rilevante e quando dal in quel simbolo si va ad incastonare il valore monetario quindi quando c'è l'accettazione della collettività nazionale o sovranazionale come avviene in europa con con la bce la scusa antonio si per ribadire sottolineare uno dei concetti fondamentali del professore che il valore viene dato dall'accettazione perché se nessuno si accettasse quella carta moneta certo certo il professore faceva l'esempio della sindrome dell'isola deserta cioè il il governatore della banca centrale che su un'isola deserta stampa una quantità incredibile di moneta ne può fare un uso molto ma molto limitato addirittura forse anche di natura non eccessivamente piacevole perché manca il contenuto umano manca la collettività che con lavoro lo scambio delle prestazioni beni e servizi e quindi manca il non ci può essere quindi una ricchezza in un mondo di morti di conseguenza la moneta ha valore perché vela l'accettazione della collettività che decide che quel simbolo del tutto privo di un valore intrinseco invece diventa un valore monetario e questa è la dimostrazione più lampante del perché la moneta deve essere di proprietà di chi l'accetta perché chi l'accetta ha dato il valore monetario di conseguenza la banca centrale europea che la mette solo in circolazione la stampa quindi dovrebbe svolgere una funzione esclusivamente tipografica invece di fare la funzione tipografica diventa proprietario della moneta è come se io vado dal mio tipografo e gli dico stampami il mio bigliettino da visita il tipografo diventa dopo che me l'ha stampato anche proprietario del mio studio il che mi sembra assolutamente assurdo lui riceverà il pagamento per carta inchiostro che ha utilizzato e in più il lucro di impresa che lui giustamente ha diritto di avere per guadagnare questa situazione quindi è una patologia è una patologia perché nel momento in cui lo stato deve indebitarsi per approvvigionarsi della moneta che è necessaria per raggiungere i fini istituzionali non solo ma anche la collettività si deve a sua volta indebitare col sistema delle banche di finanziamento di raccolta del risparmio per poter svolgere l'attività la vita quotidiana viviamo in un sistema usurocratico non vi è altra possibilità perché se io stampo e presto vuol dire che io ho il diritto di ripretendere indietro quello che ho stampato e che ti ho prestato e la differenza tra il portatore di una moneta proprietà cioè la moneta che nasce senza il debito alla fonte e la moneta debito è questa chi in un sistema fisiologico si stampa e si dà cioè io do alla collettività nel senso che il diritto di pretendere è della collettività non è il diritto di prestare e indebitarmi da parte della banca centrale questo è indispensabile che venga compreso perché si capovolge tutto ciò che oggi è un debito impossibile da andare a sanare e quindi il debito pubblico la grande truffa del debito pubblico che c'è dietro perché sostanzialmente noi ci troviamo nel 90 per cento dei casi per andare più sul piano pratico delle attività imprenditoriali che falliscono non per causa indogene ma per il problema dell'indebitamento col sistema bancario ora se io non so anche mutui antonio certo quello quello in quale mi riferisco anche a quello attenzione che adesso volevo ricordare solo che una carta moneta costa 20 centesimi no è quello il signoraggio primario adesso lo vediamo il problema è che di fronte a una situazione del genere quando io se io non so fare l'imprenditore fallisco per la mia incapacità imprenditoriale è normale ho provato ma se io sono un buon imprenditore ma per la pressione fiscale che è una pressione derivata anche dal sistema del finanziamento del dell'impresa della distribuzione della moneta non è più non siamo più in una situazione di normalità e di fisiologia ma siamo in una patologia ed ecco che tu quello che accennavi il signoraggio primario che nasce dal storicamente dalla dall'effigie che il signorotto il princeps l'imperatore o chi per lui metteva per dare quel valore e prendeva il suo agio oggi il signoraggio quindi è dato dalla differenza tra valore nominale e costo tipografico della moneta come dicevi tu una bangonota da 100 euro costa 20 centesimi il 99,80 dove vanno a finire non certo in favore dello stato come si vuol far credere alcuni né certo in favore della collettività perché altrimenti saremmo ricchi se fosse stampata e data invece viene indebitato lo stato che a sua volta dopo deve emettere titoli del debito pubblico per poter soddisfare questa situazione di indebitamento collettivo e si crea il debito pubblico impossibile da andare a restituire quindi non solo quando il professor Mauriti ci diceva una volta in una convegno diceva il professor Mauriti però lei c'era il direttore del non ricordo chi era della banca d'italia di una provincia lei ha affermato però che il governatore questo lo diceva questo direttore provinciale diceva lei però ha affermato che il governatore della banca d'italia è un usuraio non cioè io non è che lo ribadisco in questa sede perché ci indebita del duecento dieci per cento cento per cento perché ce lo presta altre cento perché lo rivoli indietro e dieci per cento perché ci vuole pure gli interessi so più struzioni così allora due sono le cose non sto io diffamando lui è un delinquente io continuo a dire che lui è un delinquente ed effettivamente erano delinquenti governatori della banca d'italia lo sono lo è oggi governatore della banca centrale europea che una donna il dramma che noi abbiamo il capo del governo che viene sicuramente da una di queste scuole eh perverse sataniche che scusa Antonio se otto volte al bilderberg draghi tutte le persone che hai nominato tutti i bilderberg tutti gli ex presidenti di di banca d'italia direttori generali che diventano presidente del consiglio tutti i bilderberg per non parlare di di quegli storici precedenti legati alla Goldman Sachs come come Draghi cioè tipo Romano Prodi eh Monti vorrei ricordare che Cossiga che non era certo uno stincori santo diceva che eh laddove fosse diventato Draghi eh presidente del consiglio avrebbe svenduto l'Italia i suoi comparuzzi di Goldman Sachs e lo e lo chiamava qualcosa tipo sciacallo o sì 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 ma Cossiga era di un'intelligenza superiore era anche una persona che aveva previsto tante di quelle cose nella in Italia che oggi fa paura solo a pensarlo così come eh voleva sciogliere la NM voleva metterli tutti dentro eh li ha definiti un'associazione a delinquere insomma cose che oggi sono si sono dimostrate col tempo eh vere e fondate quindi non non parliamo di una di un grande personale con i suoi limiti eh con i suoi difetti che eh nelle manifestazioni lui cercava di infiltrare i poliziotti al fine di creare comunque e caos quindi non è che era proprio uno stinco di santo eh Beh chi sta lì nessuno uno stinco di santo l'abbiamo visto anche tu hai dato molta fiducia per esempio un periodo ricordo ai 5 stelle si sono dimostrati invece quello che sono ma diciamo che all'inizio proprio nel nel 2005 2006 2007 quando poi ho conosciuto Auriti gli allievi di Auriti e Grillo quando mi disse proprio eh ma tutti gli anziani che parlano di di moneta sono troppo anziani poi quando ho scoperto che lui era allievo di Auriti ho capito che era un venduto e quindi ho cercato solo di di cercare di fare leggere qualcuno che parlasse di signoraggio purtroppo non ci siamo riusciti e la situazione è questa tornando all'Italia possiamo dire che l'Italia ha un avanzo primario molto buono nel senso che riceve più tasse di quello che deve spendere purtroppo deve pagare 80 miliardi l'anno di interessi perché è impossibile è impossibile riuscire a ripagare questo allora c'è il discorso è questo o si fa una rivoluzione vera dove si dice la sovranità monetaria appartiene allo Stato e se appartiene allo Stato come deve appartenere allo Stato ci sono due cose da immediatamente far emergere la violazione delle norme della Costituzione perché sostanzialmente se noi ci troviamo in una posizione come questa il problema è legato al fatto che vengono violati l'articolo 1 e l'articolo 11 della Costituzione italiana l'articolo 1 viene violato perché sostanzialmente l'articolo 1 recita che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione allora la domanda è che cosa si indente se la che la sovranità appartiene al popolo e come viene a questa esercitata dal popolo allora due sono le cose lo Stato esercita le sue funzioni delegate spesso e volentieri non nell'interesse della generalità ma per interesse contingenti di una sola parte e se succede una cosa del genere che cosa accade che chiaramente vi è un conflitto di interessi tra quello che dice la 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 tra la Costituzione e il paese reale quindi la collettività e qui che cosa è accaduto che si è delegato e si è dato a un soggetto che esercita funzioni pubbliche quale la la banca centrale di la banca d'Italia o adesso la BCE cambia solo la veste formale del del soggetto e anche la veste del simbolo monetario ma non cambia la fregatura per la popolazione che cosa accade accade che sostanzialmente vengono dismesse in favore di un ente gestito da privati perché al 90 così come la banca d'Italia era il 96 per cento di privati addirittura dei cosiddetti controllati che dovevano essere controllati i banca intesa e da soli facciano il 51 per cento di banca d'Italia e la stessa cosa avviene sulla BCE allora se questi sono soggetti privati ai quali sono stati demandati poteri assolutamente indispensabili e vitali per l'economia di una nazione vi è anche la violazione dell'articolo 11 della Costituzione l'articolo 11 della Costituzione prevede che la cessione di sovranità da parte di uno stato che rifiuta lo stato italiano che rifiuta la guerra come modo di risoluzione delle transazioni interna delle discussioni dell'elite internazionale avviene per raggiungere finalità di pace sociale di pace generale ma per tempo è una cessione temporanea non è una dismissione della quindi tu invece hai dato a un soggetto pubblico cioè un soggetto privato l'esercizio della funzione principale della stampa della moneta e addirittura l'hai fatto diventare proprietario della moneta perché attenzione che cosa accade la banca centrale europea stampa le banconote sulle banconote non si può entrare in discussione non si può creare un mercato parallelo cioè la stampa la bce la bce la controlla non ha alcuna possibilità di subire intromissioni controllo vigilanza da parte dei singoli stati allora la risposta più immediata e vincente sarebbe bene e che ci interessa noi facciamo la stampiamo le monete eh le monete di stato stampiamo la carta di stato non la la banconota ma la stato nota come giustamente viene chiamata e che cosa non ci sarebbe nulla di male anche perché i comuni e anche gli enti locali e le pubbliche amministrazioni generali possono emettere moneta elettronica quindi una forma di battitura di moneta anche se è diverso l'impulso elettronico rispetto alla moneta merce è stato già riconosciuto però che cosa accade che c'è una norma regolamentare del 1910 e poi ribadita gli articoli 141 142 non ricordo che impediscono la stampa di moneta di banconote di qualsiasi titolo che possa comunque diventare moneta con la sanzione che tutta il valore che il valore di questa stampa mettiamo che io stampo per usare i simec 100.000 simec io non solo non mi vengono sequestrati non li posso stampare risponderò sotto il profilo di sanzione amministrativa per 100.000 simec quindi sostanzialmente mi si inibisce anche è una norma è un reggio decreto che entrava che aveva una sua funzione di diversa natura rispetto a questa situazione cioè non si voleva si voleva soprattutto mirare a colpire il falsario che invece il vero falsario oggi la bce quindi sostanzialmente bisognerebbe però chiaramente è un motivo che pone delle ehm delle resistenze anche da parte di amministratori eh con la schiena dritta che vogliono per ipotesi a aiutare il proprio territorio unirsi in vari comuni crearsi eh in anche a livello nazionale creare una banca eh di stato o di pubblica amministrazione perché purtroppo è una cosa bisogna dirlo e qui altrimenti si cade nell'errore dei bitcoin la moneta deve avere comunque il l'imprimatur della pubblica autorità perché non non si può pensare che sia un privato il proprietario della moneta il privato può essere proprietario del simbolo monetario ma non del valore monetario perché altrimenti è chiaro che eh vi è un conflitto in lo stato secondo una visione ovviamente organica dello stato eh il e lo stato che emette stampa e dà e non partecipa alla alla circolazione della moneta e soprattutto all'arricchimento che avviene con la circolazione della moneta come invece fa la banca d'italia col signoraggio primario e come fanno le banche con signoraggio secondaria scusa Antonio volevo ehm sottolineare il fatto che eh la moneta viene messa a debito invece che messa credito no il famoso duecento certo 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 tu mi mi rubi il mio cento per cento di guadagno perché noi dovremmo avere il credito di guadagno quello è un diritto sociale universale a contenuto contenuto patrimoniale esatto a titolo originario mi deve essere riconosciuto perché come diceva eh professore eh di chi è all'atto dell'emissione la moneta ovviamente in questo momento storico negli ultimi centinaia di anni è dello stampatore cioè dei massoni dei Bilderberg dei Goldman Sachs e l'articolo 11 della costituzione che tu hai citato è stato fatto apposta per far entrare i Bilderberg i massoni e i Goldman Sachs perché la cessione di sovranità è così ambigua in quell'articolo che purtroppo fa parte anche dei dei primi 12 articoli quelli immodificabili in quanto principi fondamentali che possiamo dire che i padri costituenti ora hanno dei ritardati o hanno dei massoni di merda perché quell'articolo ci ha permesso quell'articolo però in realtà esclude la possibilità di fare cessioni di sovranità come sono state fatte anzi e invece sono state fatte l'Unione Europea l'Unione Europea e grazie a quell'articolo che noi siamo dentro ma perché non è stato sollevato questione sollevata questione di legittimità costituzionale e soprattutto per quale motivo ancora non viene rilevata questa situazione c'è un interesse perché è chiaro che il politico che deve andare a chiedere soldi oltre a non avere una capacità culturale perché soprattutto questi dell'ultima generazione sono terrificanti ma il politico resta come diceva Ezra Pound cameriere del banchiere quindi non se lo pone il problema importante è che può fare una vita agiata attenzione che anche il reddito di cittadinanza mina in realtà anche l'articolo uno perché è fondata sul lavoro il reddito di cittadinanza invece pone in discussione anche e in questo caso da un punto di vista positivo con una finalità meritoria perché io non è ricordiamo che è stato Auriti a inventare non solo come una mancetta ma come dare alcuni sì e altri no e soprattutto come togliere ad alcuni e dare ad altri questo no questo è un discorso diverso c'è però attenzione il principio che ognuno ha il diritto di vivere per il sol fatto che è nato è un concetto basilare che all'interno di una collettività nazionale deve essere condiviso perché altrimenti dopo si via a vedere l'aspetto patologico per quanto riguarda il reddito di cittadinanza falso dei grillini che dice tu non vai a lavorare cioè se preferisci rimanere fermo e non no questo è chiaro devi devi farlo andare a lavorare devi andare a controllare se non ci va se non ci va ma il principio sacro sono è quello di consentire a tutti il minimo indispensabile per la sopravvivenza e soprattutto e soprattutto riconoscere come diritto di come il codice dei redditi sociali come diceva Auriti cioè io ti accredito una somma che ti consente di vivere poi tu il sovrappunto ti sarà dato con la tua capacità ma non solo come nei paesi scandinavi secondo le tue attitudini e inclinazioni certo e diritto divinato un tutor per assecondare quello che tu sei nato per fare oggi oggi è tutto deviato anche l'immigrazione l'immigrazione e quindi la mobilità dei popoli deve essere espressione di libertà quando espressione di una programmazione dove io mando una quantità indeterminata di persone da una parte all'altra finanziando e creando è chiaro che io sto creando un impoverimento e un è una collettività di al di polli in batteria perché tolgo delle prerogative all'altro elimino la possibilità della scelta non non aiuto poi chi invece ha realmente bisogno e creo delle sacche per la delinquenza e per la perdita dei diritti acquisiti dopo tanti anni da parte della collettività nazionale questi sono già che hai aperto questo capitolo allora cosa ne pensi del fatto che pensiamo anche che l'articolo 13 della costituzione prevede che solo un giudice con una sentenza motivata individuale ti può limitare la circolazione mentre in con tutta questa pandemenza che ricordiamo non è una fonte giuridica perché siamo stati limitati siamo ancora limitati questo è sicuramente una grazie al bilderberg che c'è manipola l'informazione da decenni no questa è una cosa vergognosa che solo noi abbiamo potuto e addirittura consentito con i decreti del presidente del consiglio dei ministri e con una un desiderio ma quello che era veramente drammatico e vedere il piacere di questi personaggi quando ti limitavano la libertà e sostanzialmente erano proprio quelli che invece si si dichiaravano i primi ad essere libertari a voler sostenere il diritto di ognuno di esprimere le proprie idee lo vediamo ancora oggi io ritengo che il non solo attraverso un obbligo a una restrizione ma addirittura il green pass la vaccinazione obbligatoria come avete detto male a hitler avete detto male allora e voi siete uguali siete uguali che cioè non c'è differenza perché sostanzialmente io devo essere libero di a di di sottopormi o meno un trattamento sanitario dopo si crea la la lite sociale l'articolo scusami articolo 32 della costituzione prevede la riserva di legge assoluta che per cui ci deve essere una legge per qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio assoluta vuol dire che deve esserci un inter parlamentare canonico neanche un decreto legge può eh essere superiore a un principio costituzionale sì ma di fatto di fatto ti hanno messo l'obbligo vaccinale io ho visto c'è una disposizione di un decreto legge poi convertito che ha ho reso obbligatorio per gli operatori sanitari se se tu non ti sei sospeso e addirittura io delle persone dei specializzanti che siccome non si sono sottoposti eh non sono stati introdotti nel percorso di specializzazione e quindi non possono percepire perché vengono pagati e retribuiti in quel periodo non possono percepire perché non si sono sottoposti devono fare causa per esercimento danni perché uno non c'è fonte giuridica per certamente certamente devono fare causa però tu sai meglio di me che purtroppo ehm se non che cosa accade se non si decide nell'arco cioè quella dovrebbe essere una una prima causa la fai subito velocemente tac le immediate imponi eh subito la la l'adozione generalizzata di quel principio poi ci sono i discorsi del green pass cioè la gente vuole viaggiare a desiderio di socializzare perché tu lo devi impedire è chiaro che mi costringi a a vaccinarmi e di fatto un obbligo vaccinale tra eh nascosto da una parvenza di libertà che non esiste. No non sono ma le persone sane ehm muoiono persone sane che si fanno il vaccino mentre le persone che muoiono di di questo covid che è un'influenza sono una media di tre virgola quattro patologie una media di età di ottantaquattro anni e sono tutti morti dalle bari di Bergamo in avanti per il cortisolo se tu mi alzi l'ormone dello stress ma è ovvio che chi ha uno due tre patologie eh con il cortisolo alzato ai massimi livelli non dura anzi sono sono morti pure pochi se se vogliamo eh considerare questo comunque questo si collega al signoraggio perché sono gli stessi quelli del Bergamo sotto di loro hanno le case farmaceutiche che in realtà non è che dominano il mondo perché sono le banche sopra ma le banche adesso hanno sì sì le banche per me non solo ma adesso hanno fatto quella buffonata di voler tassare le case farmaceutiche multinazionali tipo Amazon attenzione noi non ci rendiamo conto che Amazon aveva messo in circolazione la propria moneta perché lui è un sistema chiuso loro possono fare cioè se ne possono fregare dello Stato italiano dello Stato dell'Unione Europea loro avevano già inserito poi c'è stata qualche problematica forse anche all'interno della grande usura qualche problema di di almeno di facciata se la posa se la pongono avevano ho inserito l'amor così come l'aveva fatto Google come lo voleva fare non mi ricordo chi altri all'inizio second life voleva mettere sì tanto a noi non ci noi siamo cioè se voi prendete tutto su Amazon non avete necessità di avere una moneta attenzione poi ci sono i Bitcoin Bitcoin che sono una forma cioè è completamente diverso dalla moneta molti pensano dice che ne pensi dei Bitcoin a non sono di proprietà pubblica b sono di proprietà privata ci sono un investimento azionario cioè è un capitale di rischio cioè quelli oggi valgono 10 e domani valgono domani valgono 15 molto volatile esatto molto valgono 15 mentre la moneta il metro non è che oggi vale un metro e domani vale un metro e mezzo perché mi sono alzato il metro e metro poi misurerà le varie lunghezze le varie cose la moneta poi misurerà le varie lunghezze la convertibilità è un qualcosa che non appartiene alla moneta appartiene alla finanza e quindi a forme diverse che sono lì si deve andare a colpire sulla grande finanza perché non è una finanza eticamente condivisibile noi dobbiamo cercare di riscoprire i valori e le tradizioni di quelle che erano delle situazioni cioè se noi non tuteliamo la famiglia la tradizione storica la tradizione culturale la tradizione morale il discorso anche della fede perché io ritengo che la fede sia imprescindibile io so che tu forse io invece sono contrario ma purtroppo se tu non cresce tu quando fa quando è quella vera non quella di vaccini attenzione la scienza e la fede sono due cose tu non puoi ragionare con il cuore non puoi analizzare con il cuore un qualcosa che è viceversa che è qualcosa della testa però attenzione un qualcosa che intendo la natura un qualcosa tutta lo devi porre per quanto riguarda la fede se tu ami una donna e come ritengo che sia normale quella 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 questa sensazione quel sentimento di amore come te lo spieghi ragione razionalmente non è spiegabile quindi c'è qualcosa che la natura la concedere ma in quanto ma razionalmente l'amore non si spiega perché l'amore non si può spiegare la ma non c'è bisogno di arrivare a pensare alla fede comunque per essere buoni per essere caritatevoli non c'è bisogno della fede basta essere logici etici quindi la fede io non lo so io non lo so se tu non non hai fede hai una sorta di approccio buonista che non appartiene perché la fede non è guarda attenzione che la fede non è un qualcosa di conveniente la fede deve essere è un qualcosa di che ti impone dei principi seri inderogabili e ti pone di fronte anche a delle scelte io per esempio sulla scelta basterebbe un minimo di etica per vivere ma l'etica l'etica attenzione dopo c'è il relativismo etico se tu arrivi a mettere in discussione tutto è chiaro che ti trovi di fronte a delle come fai tu io però mi rendo conto io sono come sono solo per sintetizzare il mio pensiero che io conosco negli ultimi 15 anni conosciuto una marea di gente attraverso manifestazioni convegni e quant'altro ti assicuro che la stragrande maggioranza di quelli che dichiarano di avere fede hanno etica pari a zero zero spaccato quindi io ribadisco che sembra stati che sì 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 ma questo hai ragione ma l'aspetto patologico non modifica la valutazione sulla sulla sul principio tu devi guardare il principio se giusto o meno che io poi sia un delinquente e non il razzo e trazzolo male è un discorso che appartiene alla mia persona e alla mia responsabilità a proposito di delinquenti vogliamo ricordare che che ne so il presidente del consiglio precedente andava in giro costantino di padre pio e lo tirava fuori di fronte a bruno vespa o che ne so vari politici come salvini si presentano con col crocifisso quasi ma cosa cosa c'è c'è se ti presenti col crocifisso e se ti presenti con la salvini ha votato per l'obbligo del vaccino agli operatori sanitari e ha votato contro la mozione ciampolillo che invece toglieva questo obbligo e la meloni si è steluta quindi cerchiamo di ricordare che la meloni è un aspen institute sono tutti tutti di chi si dichiarano di avere fede sono tutti ma io adesso non vado a guardare io non so quello che ha votato quello che non ha votato non mi interessa non lo so però se uno mi si presenta con la un crocifisso o con la madonna con padre pio io non ci trovo nulla di strano no però se comunque è un servo del bilberberg le cose ma quello dopo attiene alla sua correttezza e io invece pregherei colori quali sbeffeggiano le immagini sacre della fede di andarlo a fare non era però no no di andarlo a fare in capul le statistiche sono dicono che coloro che si chiamano di avere fede non hanno etica poi in ambito politico ancora peggio ma il punto è per esempio la meloni un aspen institute l'aspen institute è una cosa del bilderberg per tornare diciamo al nuovo ordine mondiale la famosa tesi di salvatore tamburo si si chiama nel fatto fu fatta nel 2007 signoraggio riserva frazionaria nuovo ordine mondiale perché secondo te sono collegate queste tre cose sì ma noi dobbiamo avere fede in qualcosa ma se noi troviamo ogni persona non dobbiamo poi giungere nella logica del sospetto io ritengo che chiaramente quello che bisogna attaccare sono i centri nevralgici chi c'ha l'osso e l'osso c'era il sistema bancario e la grande finanza gli altri una volta che li ha attaccati e hai dimostrato che puoi metterli in discussione certo hai una forza moderata lo puoi fare semplicemente da un punto di vista di principio ma se quel principio entra nelle coscienze individuali e si diffonde tu vedrai che anche la proiezione cioè il precipitato della nostra volontà popolare si trasformerà oggi tu il voto non viene dato in funzione di un principio viene dato in funzione di un aiuto di una raccomandazione di un qualcosa quindi ognuno si merita il governo che ha e si merita addirittura di essere governato da uno draghi che è stato il presidente il governatore della banca centrale europea cioè se ci pensi però pazzesco io io non ci credevo nel giorno che hanno nominato questo otto volte bilde nato cresciuto in goldman sachs ma tu non pensi che proprio ormai pensano che il popolo è così ritardato che possono anche essere ma lo è perché guarda se tu inserissi una moneta di stato quella non ti farebbe nemmeno debito pubblico perché non sarebbe oggetto di rimborso quindi basterebbe mettere in circolazione una moneta di stato che stampi e dai alla collettività lo utilizzi alla fonte per i bisogni necessari dello stato e della governata un governatore abc e gli dice vuoi venire a cena che ti offrona cena con i prodotti della mia nazione della mia patria e senza che tu mi indebiti brutto delinquente e d'altronde adesso scatta il meccanismo anche di dire siamo troppi siamo troppi dobbiamo eliminare una parte della popolazione e quindi queste forme questo esperimento che è partito da wang ma che sostanzialmente io credo che sia una forma di condizionamento delle collettività di controllo di cioè siamo stati studiati aggiungici a questo che tra un po' eh ci metteranno pure il microchips perché eh tanto che quello che ti dico noi abbiamo messo eh cosa noi dobbiamo però controllarti questo ti dà la salute e ci sono i pecoroni che si faranno faranno la fila per farsi mettere il microchips per un'influenza ti rendi conto? E questa influenza è certificato dalle università italiane e dall'istituto europeo di ehm dei tumori di Milano circola dall'estate del 2019 e non ha fatto un cazzo di morto fino a febbraio eh a gennaio cominciano i mass media a dire che cioè cioè l'impossibile in Cina a febbraio cominciano i mass media a alzare il cortisolo l'ormone dello stress e se vai a vedere le malattie create dall'innazionamento del cortisolo ci sono tutte dalla sindrome metabolica indebolimento del sistema immunitario malattie circolatorie iper insulinemia iper pressione alta guarda caso l'otto di marzo Rocco Casellino fa circolare la bozza del lockdown di guerra e lì un'enormità di chiamate al cento diciotto per principi di svenimento principi di infarto il diciotto marzo le barre di Bergamo con le barre di Bergamo ti sei fatto il cortisolo di tutta la popolazione italiana alto per un anno con il cortisolo così alto certo che muoiono quando muoiono a marzo e un po' febbraio ma come mai a novembre non muore nessuno fa freddo a dicembre è stato uno dei dicembre più freddi di tutti i tempi non muore nessuno a gennaio un mese più freddo non muore nessuno muoiono quando l'info pandemia dei giornalisti ritardati che per tre visualizzazioni si venderebbero la madre cominciano a alzare il cortisolo guarda caso sono tutti morti di cortisolo e chi invece si è morto di vaccino era sano guardiamo la la povera diciottenne di genova pallavolista morta di vaccino e ce ne sono parecchi il maresciallo di 47 anni in sicilia e ce ne sono tanti altri ragazzina tennista cioè senza parlare poi di quello che hanno fatto su astrazenica ormai siamo siamo condizionati siamo subiamo di tutto subiamo lo stiamo subendo da tutti i punti di vista tra un po arriverà pure la legge bavaglio che io non potrò dire che un maschio e una donna possono avere figli mentre i tuoi maschi e due donne no se lo dice se lo dirò come lo dirò sono un omofobo qualcosa non lo so che tanto da oggi se anche novax verrai bollato come novax negazionista negazionista che diranno negazioni ti rendi conto è tutto è tutto orwelliano no è tutto alla gobbels no e che senza considerare che già il sistema orwelliano creato dai nazisti in realtà dei nordamericani perché la eg farbem che ha creato hitler e l'additivo della benzina che per con cui bombardavano l'inghilterra era della di rockefeller la eg farben era dei nord americani era di rockefeller dei bush e dei ford quindi hanno vinto la guerra i nazisti perché queste tre famiglie hanno vinto la guerra e ci vengono a dire che invece l'hanno persa e guarda caso tutto questo sistema con una costituzione blindata tutte quelle cazzate che dicono sulla costituzione in realtà l'unica costituzione degna e quella svizzera infatti gli svizi hanno potuto fare referendum moneta intera contro il signoraggio bancario perso di poco lo possono rifare però perso problema che è perso è ma 25 per cento di consensi in italia un referendum analogo avremmo avuto lo 0 25 perché la c'è il dibattito quando c'è un referendum in italia quando c'è un referendum chi è per i noti dice vai al mare perché guarda caso i referendum in costituzione c'è scritto che possono essere fatti tra giugno settembre quando devi andare al mare ma poi sono abrogativi da noi non sono propositi sono 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 per i tardati mentali cioè per gli italiani perché purtroppo non lo siamo sempre stati però beh però attualmente quello che conta il presente non presente dice che il ritardo cognitivo non solo è alto ma in progressi ma perché ti hanno distrutturato la famiglia ti hanno distrutturato la scuola hanno imposto determinate cose assurde non si studiano non si studia la verità la verità purtroppo anche se è scomoda ma va detta che vanno riferiti tu non cioè si mettono in discussione oggi aspetti che non dovrebbero essere discutibili e non si comprende la fattispecie giuridica monetaria che di una semplicità così pazzesca così elementare come che il bambino te lo capisce subito l'uomo invece ti deve trovare le difficoltà dice non mi sei poi non te lo può obiettare perché come fa a obiettarti un qualcosa d'altronde tu lo puoi verificare l'esperimento simec in realtà fu un esperimento di consapevole di trasmissioni consapevolezza sulla collettività poi fu ovviamente contagiato dalle manie di grandezza dei commercianti che volevano che non avevano come finalità quella accademica di ricerca e di teoria generale del ma avevano chiaramente il lucro d'impresa per legittimissimo per l'amore di dio però ecco hanno contaminato un po quel principio spostandolo dall'ortodossia auridiana gli stessi che stanno fallendo che invece che trarre insegnamento da auriti adesso stanno fallendo e che si lamentano ma invece è giusto che falliscano perché auriti è arrivato in italia lì si come un profeta anche se lo dico io in maniera atea è arrivato in italia come profeta non l'ha ascoltato nessuno se non tu e qualche pochissimo abruzzese popolazione abruzzese ma che poi pochissimi come te hanno portato avanti il suo discorso è arrivato come un profeta a dire state attenti che il nuovo ordine mondiale vi ucciderà col signoraggio bancario gli ha messo le pillole in giro ma non le hanno prese e adesso si lamentano perché falliscano ma bene che falliscano no va bene non si augura mai nessuno però certamente speriamo sia di lezione che c'è un altro aspetto che giustamente sottolinea sempre il professor auriti il concetto di amore non può essere oggetto di una norma giuridica io non posso imporre a un governante di amare il popolo o lo senti e lo ami o non lo ami e quindi sei disposto non più a servirlo ma servirtene e noi oggi viviamo con una classe politica se che si serve del popolo e non lo serve questo è un gravissimo aspetto e lo serve addirittura lo indebita lo rende sottomesso poi non parliamo anche del aspetto che tu sicuramente avrai a cuore in particolare del cibo no il come viene viene nutrita la popolazione con lo sfruttamento degli animali in una maniera schifosa non hai più il discorso del del cibo genuino vengono fatte tutti in provetta vengono sono tutti organismi alterati che ti possono modificare anche io non so oggi quale può essere il futuro i giovani non se ne rendono conto perché questi dibattiti queste problematiche non le sentono non le sentono io l'importante che hanno il telefonino che si riescono a sentire la canzone che ci hanno addirittura quando non c'è nemmeno quella quel colloquio quel dialogo io li vedo che stanno spesso quattro cinque ragazzi in un tavolino e stanno col telefonino tu pensi questi stanno si stanno mandando i messaggi tra di loro sullo stesso telefonino cioè è veramente un qualche hanno eliminato il centro di aggregazione principale che in italia è meraviglioso il centro storico dei paesi e delle città che è meraviglioso in favore di che cosa delle scatole gli scatoloni centri commerciali che sono una al di là del riciclaggio di denaro sporco che non ci voglio nemmeno pensare perché è sempre una visione patologica di un prima ma è sicuramente un perdere di identità ci vediamo al centro storico davanti al negozio tal dei tali no ci vediamo davanti della fontana ci vediamo al centro ci vediamo in giro a farci una camminata ci possiamo c'è queste cose stanno diventando come quei paesi anonimi che tu vedi nel nell'est soprattutto nell'est europa dove vedi solo queste case che camminano dove uno dietro l'aceno che case case non i casermoni queste case ma non 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 scopri invece la bellezza del posto della cosa è che vivi nella regione più verde d'europa l'abruzzo vogliamo ricordare e anche la regione che ho più grande concentrazione i centri commerciali e ti devi porre pure questo problema se tu pensi questa nostra una regione l'abruzzo che è bellissima tu in noi io per esempio da qui in un quarto d'ora sto al mare in mezz'ora sto in montagna ma o abbiamo i centri commerciali da tutti i punti di vista abbiamo avuto scandali inconcepibili da anche dal punto di vista dell'inquinamento del delle delle violazioni edilizie di cose della corruzione via dicendo che tenuto conto che siamo un milione e duecento abitanti da un punto di vista statistico qualcosina ce lo dobbiamo porre come problematica però indubbiamente una è una regione bellissima adesso avrai modo con piacere mi hai detto che verrai anzi magari faremo una diretta dal vivo come no mezzo su un fiume senti sia proposito dell'alimentazione che accennavi va detto che noi viviamo abbiamo 5 miliardi di ettari vivibili dall'uomo cosiddetti antropizzabili una volta che escluso i ghiacciai i deserti le terre messe dovrebbero essere tutte vivibili dall'uomo in realtà di questi 5 miliardi l'88 per cento in mano agli allevamenti l'11 per cento all'agricoltura nostra per noi noi viviamo dello zero virgola quindi fanno ridere quando dicono che big pharma domina il mondo big pharma quanti ettari a pochissimi big meat a tutti e cinque miliardi cioè ti rendi conto tutto invece che ogni essere umano siamo nove miliardi dovremmo avere quasi un ettaro a testa mezzettaro metto la testa per 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 natura invece sta tutto in mano a big meat 5 miliardi di ettari su 5 è una cosa enorme se ci pensi ma l'aggressione dell'agricoltura è stata programmata perché in italia soprattutto si era programmata che si passasse da un 30 35 per cento che era nel periodo degli anni dopo guerra abbondante fino al 3 per cento come sono oggi 3 per cento dell'agricoltura è quello che ti dà un rapporto bellissimo con la terra ti consente di avere i cibi prodotti della terra e soprattutto anche quella forma di contratti che c'erano all'interno del dello sfruttamento come la mezzatria la mezzatria era una forma di importante perché hanno accreditato la mezzatria perché creava un'armonia sociale con forme più o meno anche certe volte non certamente perfette ma era un'armonia sociale vuol dire che tu mi curavi il terreno e prendevi 52 per cento prende il 52 50 oltre a quello che un po ti prendevi senza che io me ne accorcessi ma sostanzialmente io ero contento perché si coltivava la terra si mantenevano i rapporti sulla terra veniva allevato l'animale veniva fatta la trebbiatura veniva insomma era uno sfruttamento della terra adesso tu vedi sulla terra che ci stanno i pannelli solari ma siamo matti sui pannelli solari se proprio li vuoi mettere al di là di tutte le problematiche che pur ci sono li metti come copertura dei garage dei detti ti rubo ancora 10 minuti non voglio non voglio diciamo che rubarti troppo tempo che arrivi dal lavoro chiederti le ultime due cose uno vuoi commentare un attimo anche la riserva fazionale cioè il fatto che non solo le banche centrali credono molto certo ne parlavamo quello è il signoraggio secondario che sicuramente per noi è ancora più impattante perché quello che abbiamo tutti i giorni quando uno deve comprare una casa dice devo prendere il mutuo ecco questo è un altro aspetto patologico oggi tu non puoi acquistare una casa con i proventi del tuo lavoro o c'è la famiglia che ti consente di ereditare una casa quindi la vendi e te ne compri un'altra oppure devi accedere al credito bancario la capacità il lavoro tranne in rare circostanze in ambienti di nicchia non ti consente di poterti comprare la casa con il frutto del tuo lavoro la banca che cosa fa con 50 euro depositati presta circa 50 mila euro quindi crea moneta inesistente dal nulla con il bip elettronico e via dicendo moneta tra l'altro attenzione ricordiamoci che l'unica moneta avente valore legale è la banconota cioè la moneta merce quelle moneta che non ha valore legale quindi anche attraverso la riserva frazionale si crea moneta dal nulla che va in favore della banca perché tu mi presti il mutuo io te lo devo ridare ma la moneta realmente depositata presso la banca al momento del prestito del mutuo è infinito è l'uno per cento adesso anche la riserva verrà quasi del tutto abolita quindi che ci ritroviamo ci ritroviamo che la banca incamera una mole immensa di denaro con la ripetizione non lo chiara non ci paga le tasse e noi invece falliamo ci ritroviamo l'immobile pignorato e venduto se tu vai a vedere nei cancelleri dell'esecuzione immobiliare il 90 per 95 anche di più degli delle procedure è attivato dalla banca insieme alla banca poi si inserisce l'equitalia si equilisce l'equitalia eccetera e poi qualche creditore pure normale che però la prenderà 95 che praticamente chi è che in mano i btp italiani nel 95 per cento dei casi sono le banche e le nonnine saranno l'uno per cento non sono certo le nonnine che ci fanno il signoraggio bancario no certo certo e tu adesso con la con la lotta al contante cioè quindi un'altra forma liberticida perché tu che gli vai a dire per esempio faccio l'esempio stupido il clochard che che gli dici fatti la carta di credito che mo ti ti a credito eh cento cento euro per farti vivere il contante è una è una libertà che non si può eh prescindere non si può negare è un controllo di massa che tra un po' non so dove arriverà tu hai le nostre telefonate sono tutte eh controllate rimangono per cinque anni ma rimangono per cinque anni ci rimangono per molti di più oggi parlare a telefono parlare a casa dove c'è un computer diventa un qualcosa di rischiosissimo eh inutile che non ne chiamano non si fanno più indagini si fanno solo intercettazioni i vecchi investigatori non le fanno più perché tanto basta intercettare mettere un eh un microfono ambientale tu hai fatto l'indagine poi su quella lavori e fai anche la giustizia è in mano sostanzialmente a chi non vuole risolvere il problema la prescrizione era un istituto di assoluta civiltà viene continuamente messa in discussione come si fa a pensare che io debba essere a ricasco dell'azione dello Stato per trent'anni ora così come eh anche io mi vedono pure contrari sebbene mh li ritenga assolutamente deprecabili sia eh da tutti i punti di vista coloro i quali sono sfuggiti alla cattura eh si sono trasferiti quell'immondo Lodo Mitterrand che gli consentiva di rimanere però sono trent'anni no sono trent'anni tu adesso lo devi prendere quando è nel eh quando è il momento è caldo cioè dopo trent'anni tu gli hai fatto fare una vita lo prendi che è vecchio che mi rappresenta che lo metti dentro Antonio ma già il processo civile dura dieci anni no e vabbè però arriva la fine però dopo diciamo ma quello penale che tu tenga in ballo la gente veramente per 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 decenni ma 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 di cosa stiamo parlando la certezza della pena è una cosa ma l'umanità del processo non esiste ma guarda io sono dell'avviso dirò pure una cosa una corbelleria ma io sono dell'avviso che il carcere dovrebbe essere eh abolito perché è contro natura è contro natura preferisco di più l'iniezione letale quando capisco che quella persona è irrecuperabile perché è molto più civile l'iniezione letale piuttosto che un carcere a vita o un carcere dopo che tu sei arrivato a un'età di 70 80 anni e nessuno ti ha messo dentro prima quindi il carcere è veramente la devastazione il 41 bis tu immagina che vuol dire fare l'avvocato parlo non quello eh che è al soldo della eh della mafia o ma l'avvocato normale che vuole fare la sua vita professionale in un ambiente giudiziario come quello siciliano dove tu hai delle possibilità di movimento molto ma molto ristretto e sicuramente non è facile quando c'hai eh pure dei detenuti che si ricadono nel 41 bis certo il pentitismo tutte ma non stiamo spaziando veramente non stiamo andando di pari in falco sembriamo mentre parlavi pensavo l'avvocato di Cutolo come doveva comportarsi per dirne uno che era legato pure alla drangheta ai servizi segreti alla massoneria no perché sappiamo benissimo che alla fine chi comanda delle mafie era drangheta perché alla fine è strettamente connessa sia alla massoneria che all'alta finanza non è un caso che il Gratteri è dall'89 sotto scorta perché lui indaga sempre esclusivamente però dobbiamo dire pure un'altra cosa io non posso credere non crederò mai che i veri capi capi mafia erano Riina Provenzano quelle sono delle bestie delinguenti esecutori di reati immondi male chi tirava le fila e sicuramente all'interno dell'apparato e sicuramente eh qualcuno che ha una mente grigia si è detto. Buscetta lo stava per dire no? Prima che Andreotti lo Certo io credo anche nella gente. Volevo dire non solo Buscetta ma i vari Mino Pecorelli i Rino Gaetano e i Pasolini sono stati tutti e tre ammazzati perché anche Rino Gaetano ebbe problemi ai freni della macchina e la testimonianza del non era non era addormentato era testimonianza del camionista che gli è andato contro. Vabbè io questo sì l'ho sentito ma non... Dico queste cose perché nelle eh test di Rino Gaetano ci sono tutti riferimenti a a Cefis che era il il capo dell'Eni e poi dell'Eni e poi della Montedison eh il quale era in realtà secondo eh i servizi segreti il vero eh capo della P2 il cui Licio Gelli era solo il prestanome questo Cefis ehm era eh incuteva timore anche allo stesso Andreotti quindi eh abbiamo che cosa? Un Rino Gaetano che nei test delle sue canzoni se tu vuoi vedere ehm Berta Filava c'è tutto lo scandalo Locke lo scandalo Locke fece sì che nel 76 non ci fu il Bilderberg e solo la pandemenza del cortisolo ha impedito la riunione del Bilderberg ma nel 76 il principe Bernardo l'ex spia nazista della IG Farben non eh essendo partecipe dello scandalo Locke che a quell'epoca era lo scandalo mondiale più famosi tutti i tempi non si fece il Bilderberg che fu una cosa clamorosa il fatto che non si fece il Bilderberg lo stesso ehm ti ti parlo di queste cose perché con l'avvocato Montone ne abbiamo parlato è venuto fuori che c'è un collegamento pure con il signoraggio il collegamento è indiretto ma lui ha parlato anche di Arrigo Molinari il quale indagava sulla morte di Tenco e fece delle dichiarazioni che ehm facendo intendere che sulla morte di Tenco non si era negato abbastanza perché in realtà qualcosa non quadrava. Quello che dici sono perfettamente d'accordo sulla però siamo in una logica eh del sospetto cioè riservi lascerei a chi indaga verificare queste cose ma il dato di fatto obiettivo che Riina e Provenzano non potevano essere i capi mafia non si non può essere messo in discussione cioè prendiamo in giro noi stessi se vogliamo. Era per dire che Cefis era il vero capo in quel contesto e poi successore di Cefis ehm questo da vuoi dire due parole su Molinari che stranamente è stato ammazzato poco prima di un'udienza in cui lui eh un'udienza civile se non sbaglio contro Banca d'Italia ricordi la vicenda del. La ricordo molto superficialmente non non mi vorrei esprimere su questo argomento che non cioè non conosco mi rendo conto che sicuramente ci sono dei dei grandi eh dei grandi gialli nella politica eh italiana così come eh si partì dal da Mattei una delle cose più esatto Cefis sembrerebbe il mandante dell'uccisione di Mattei perché perché eh entrambi erano capi partigiani entrambi eh avevano le stesse eh frequentazioni ma lui Cefis era il numero due di Mattei e Mattei lo stava relegando in secondo ordine l'unico modo in cui Cefis aveva di diventare il capo dei capi era che morisse Mattei e guarda caso muore Mattei in circostanze incredibili no? Certo sì sì quello è rimasto inspiegabile del tutto privo di poi abbiamo avuto il problema della mafia che fu affrontato in maniera molto seria durante il fascismo col prefetto Mori e guarda caso e guarda caso l'invasione del quindi l'occupazione dell'Italia fu fatta partendo dalla Sicilia con una crossa sinergia tra mafia e alleati tant'è vero che dopo la mafia si unì con un connubio pacifico e comprovato con le forze cosiddette di eh antifasciste che non esistevano prima durante il fascismo perché sono esistite subito dopo la sua caduta i famosi capi partigiani come Cefis no? Che insomma partigiani diciamo sul piano militare non hanno alcuna rilevanza diciamo su non hanno avuto alcuna rilevanza se non quella di mettersi il fazzoletto il 25 il 26 aprile senti eh chiudiamo sulla sentenza di Pisa la del Tribunale Penale di Pisa questa sentenza no? In cui i qualche eh zelante poliziotto che non conosce il diritto perché ricordiamoci eh non vanno eseguiti gli ordini illegali e gli ordinanti costituzionali quindi chiunque commena multe sta facendo non solo falsi ideologico ma ehm si mette nella condizione eh di essere citato per un risarcimento danni astronomico perché il procurato stress e l'alzamento del cortisolo è una cosa inqualificabile anche dal punto di vista ehm economico cioè la sentenza di Pisa dice che eh assolve la persona perché eh era stato fatto anche l'articolo sei cinquanta del codice penale e annulla la multa e annulla tutto quanto in quanto tutta la normativa covid sentenza il Tribunale Penale di Pisa non appellata in quanto la procura la Corte d'Appello si è cagata sotto ad appellarsi così come quella di Milano come quella di ehm eh Reggio Emilia afferma che è stata dichiarata l'emergenza con una normativa ehm della protezione civile che esiste solo per carattere logistico locale e e quindi che solamente una dichiarazione di guerra potrebbe dare e anche lì noi non abbiamo non abbiamo lo stato di emergenza esatto quindi se lo è inventato questo pseudo professore universitario Conte avvocando a se stesso neanche il Parlamento che eh in maniera decelebrata glielo passa se si lo avvoca a se stesso questo potere quindi siamo anche nell'usurpazione ed ha fatto molti più danni eh quella quel provvedimento da un punto di vista culturale e di impatto piuttosto che il covid il covid rispetto a al a quei danni che ha creato sul sistema sociale sul sistema economico il DPCM di del Conte eh veramente veramente zero rispetto a quello che ha fatto Conte cioè pensare che questa persona è riuscita in quel periodo e per fortuna lo hanno messo da parte eh adesso però ci sarà il tentativo di rimettere in vigore tutte queste questi vincoli questi controlli eh vedremo dopo l'estate adesso per l'estate non lo potranno fare perché ci hanno paura durante l'estate dopo l'estate rimetteranno i sembra che i francesi sono scesi in piazza e Macron e non hanno però la notizia è uscita è uscita in maniera molto silente rispetto a quella che avrebbe dovuto essere cioè doveva essere eh controllata adesso vedremo anche tutta una serie di normative eh per il eh l'inquinamento e il riscaldamento perché è successo quello che è successo in Germania che potrebbe succedere eh dovunque perché purtroppo il cambiamento climatico io credo che sia è vero che l'uomo condizioni il clima ma la natura è sempre più forte dell'uomo basta non ti puoi mettere contro la natura la devi cercare. Ma io vorrei chiedere a te che sei avvocato non è imbarazzante per un giudizio a vedere che ci sono decine di sentenze dei giudici di pace decine dei tar corte corte di di cassazione penale tribunale penale tribunale civile tutte sono tutte in direzione contraria a tutta la normativa covid non è imbarazzante per un giurista vedere questo? Ma è imbarazzante non tanto vedere questo perché eh se una magistratura è indipendente è realmente retta eh non non è una preoccupazione perché può uscire pure una normativa o delle imposizioni o delle o delle dei corpi normativi che sono sbagliati quello che è imbarazzante è che invece la collettività le ha supinamente accettati cioè non ha reagito in maniera eh forte io ricordo che c'erano delle persone che addirittura telefonavano la polizia perché c'erano persone che stavano cucinando all'aperto perché quello usciva con la mascherina che si baciavano due siamo addirittura si facevano discussioni sul fatto se si poteva vedere l'amante cioè quindi arrivavano perché l'amante poteva essere un fattore di contagio perché vivevano in un altro cioè siamo eh cioè se non ci fosse da piangere ci sarebbe veramente molto da ridere e quindi eh volente o non volente eh fanno gli italiani fanno schifo vabbè fanno schifo eh fanno schifo un po' in tutto il mondo perché tu guarda eh cioè non è che gli altri siano messi molto meglio di noi insomma noi però abbiamo Londra scendono in piazza in Francia scendono in piazza in Italia si scende in piazza solo per per il calcio decerebrato per questi calciatori che hanno tre neuroni addirittura Bonucci che dice noi stiamo combattendo il nazismo cioè questi gli italiani pennono dai labbi questi decerebrati vabbè sì questo hai ragione però quantomeno eh qualcosa in Italia che si oppone c'è qualcosa poi tu li vedi che sono qualcuno poi sparisce qualcuno ricompare via dicendo ma il problema è questo tu devi togliere l'osso cioè devi togliere la moneta all'usuraio se togli la moneta all'usuraio hai già risolto il perché tutto il resto è il dettaglio su questo Marx aveva ragione l'aspetto economico è quello che ti condiziona perché tu devi prima stare tranquillo certo non in quel modo come propugnava lui ma eh devi avere la serenità e la possibilità di vivere sopravvivere e vivere quindi di pensare liberamente liberamente e dopodiché puoi affrontare eh con cognizione di caso e consapevolezza tutte le questioni ma gli devi togliere la moneta se tu non togli al sistema bancario la moneta cioè io vedere immaginare quelle scene terrificanti di persone che andavano a lemosinare al direttore di banca un prestito che gli serviva per far mangiare i figli per portare avanti la propria azienda eccetera e il direttore di banca che ti trattava come se tu fossi il peggior essere di questo mondo mi ripugna ancora a pensarlo e e così come mi ripugna pensare che un funzionario della pubblica amministrazione col per attraverso la burocrazia si crei una forma di eh di potere eh nei confronti degli altri cioè l'uomo deve essere libero deve rispettare l'altro e soprattutto deve togliere la moneta ai banchieri e alla grande finanza se tu gliela togli e lo puoi fare in uno io vorrei la grande eh carenza culturale della della del comunismo è emersa eh a Cuba quando fu fatto governatore della banca centrale Che Guevara Che Guevara che era laureato in medicina e quindi tu pensi che questo poteva se aveva eh anche conosciuto le tesi di Marx e non le conosceva perché Marx l'aveva denunciate queste cose poi che non le ha una pagina in cui denuncia le banche centrali e vabbè l'ha fatto però l'ha fatto però l'ha fatto ma diamogli pure cioè io tu lo sai che nei suoi confronti non non nutro alcuna forma di 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 apprezzamento però l'ha detto e questo gli va dato atto e questo che ha fatto il governatore della banca centrale non è riuscito a fare nulla anzi ha devastato tutto ha devastato tutto ma rendi conto questa figura iconica di Che Guevara in cui anch'io da ragazzino credevo non in quanto comunista siamo sempre stato anticomunista e anche antifascista ma eh in quanto persona che io reputavo cercasse il il bene altrui no? Invece alla fine ero ritardato laureato in medicina che ha fatto il banchiere centrale esattamente come Draghi ma che rendi conto? Per quella fondaia un terrorista quello era veramente un terrorista comunque andava ammazzava eccetera eccetera aspetta ma ritardato perché si fidava di Fidel Castro che notoriamente era uno che ha fatto fuori anche Cienfuegos che era i tre comandanti era quello più sveglio il quale Castro si è venduto la posizione in Bolivia di Che Guevara ai russi russi se lo sono venduto gli americani e l'hanno ammazzato grazie a Fidel Castro Cioè ti rendi conto quanto era ritardato? Eh lo so ma non c'è più Purtroppo è impopolare dirlo ma è la verità cioè senti chiudiamo con una speranza però perché devo dire che ci sono degli italiani che comunque non credono a questo ehm che veramente un'influenza possa fare tutti questi morti e invece sono tutti morti di cortisolo per esempio il giudice Giorgianni comunque in Italia si sta battendo un giudice di corte d'appello di Messina si sta battendo ha creato un'associazione italiana che si chiama l'Eretico insieme al Medico Bacco è un'associazione mondiale che si chiama l'OMV che combatte la falsa informazione combatte ehm per le libertà soprattutto in Sud America perché si sono stati creati i campi di concentramento covid in Argentina e in alcuni stati del Brasile perché ricordiamo che tutte queste nazioni in quasi tutto non tutte le nazioni del mondo sono quasi tutte federate federali come la Germania quindi il Brasile ci sono stati pieni di covidioti governati da da covidioti e stati no in Argentina nella provincia ehm adesso non ricordo il nome perché eh una provincia con un nome particolare ci sono stati questi campi di concentramento covid e il giudice Giorgianni italiano e devo dire che si sta combattendo mi ha dato atto e va eh il mio personale apprezzamento perché sono persone che per fare questo non si troveranno sicuramente in un ambiente semplice e dovranno rischieranno anche in prima persona però è giusto rischiare perché eh c'è qualcosa che impone di non limitarsi a vivere eh chiudendo gli occhi o mettendo la testa sotto come gli struzzi. Bisogna. Mi sono ricordato in Argentina e la provincia di Formosa. Mi sono stati i campi di concentramento covid. Comunque anche il medico Bacco che ha scritto il libro insieme a Giorgianni Stagio di Stato è stato richiamato più e più volte dal dal cosiddetto ordine dei medici no? Un ordine di ritardati. Eh purtroppo la situazione eh è questa e Antonio noi possiamo solo navigare a vista no? Adesso tu prima mi parlavi che ci sarà un un evento a settembre ottobre. Spero che si faccia. Spero che non ci siano i carri armati per le strade con la gente che che incita il carri armato vicino a casa mia. Voglio il carri armato vicino a casa mia. Eh lo so questo è possibile però i carri armati ne abbiamo pochi quindi casa mia non ci verranno. Senti allora ci vediamo in Abruzzo la regione più. Ti aspetto. Ti aspetto. Non sapevo che se la più alta concentrazione di centri. Sì sì te lo faccio vedere. No cerchiamo di vedere magari la Maiella o. Certo certo certo. Pineto le spiagge di Pineto. Pineto è la più bella è la più bella del della della zona teramana. Poi se vai verso sud nel bastese trovi la roccia quindi tutto un altro tipo di. No 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 noi siamo di Milano e ci piace la sabbia anzi no tu devi tu devi non devi dire per partito preso che ti piace la sabbia. Tu vai anche sulla roccia troverai trabocchi troverai delle situazioni molto belle no no no. Poi vedrai la montagna sono montagne diverse. il Gran Sasso dalla Maiella sono. Esatto. Perché il Gran Sasso fa parte dell'Appennino è venuto. La Maiella invece era precedente e non si trova nella direzione nella direttiva della dell'Appennino. Infatti è spostato. Ah e poi dalla Dostale. Sì sì. Interessante. E hai promesso che vorrai a vedere la cupola geodetica di vetro l'unica in Italia a Tarantapeligna e io ci sono stato lì a gennaio in maglietta e fuori un freddo cane dentro. Io stavo in maglietta su Davo. Per dirti che anche nell'architettura le case fatte a parallelipipedo sono provocate da ritardo cognitivo degli architetti perché negli anni cinquanta Buckminster Fuller diceva che si può vivere solo all'interno di queste bolle chiamate cupole geodetiche. Così come anche le serre funzionano benissimo. Noi siamo anche noi siamo un essere vivente come la pianta. Abbiamo la nostra serra che è la casa ma per riscaldare un parallelipipedo devi usare una potenza della Madonna. Sono molto energivori per riscaldare poi l'ultimo centimetro perché l'aria calda poi sale. All'interno di una cupola geodetica l'aria circola perché c'è l'apertura, la porta, l'apertura della finestra. Come gli igloo che c'hanno, non c'hanno mica gli architetti. Certo. La stessa cosa. Lo stesso principio in Africa con le tende fatte anche con materiale che a noi farebbe impressione ma sono legate la paglia con il letame che riscalda e che crea una coibentazione così come anche in montagna. Ci sono persone che non hanno il riscaldamento ma vivono attraverso forme addirittura ancestrali di riscaldamento. O albero bello no? In Puglia. Albero bello anche quello sì sì sì. I trulli sono cupoleggianti diciamo. Sì sì. E sono freschi dentro. Poi andiamo e sono freschi esatto. L'estate sono freschi e l'inverno. Andremo magari troviamo il tempo di andare sotto la casa di Euriti a vedere il famoso striscione. Da quanti anni ha preso lo striscione? Da prima che lui... è dal 2004. Mi sembra da quando è entrato l'euro però. Può darsi pure dal 2001. Ci sarà anche Silvia. Vediamo se riuscirà a portare sulla strada del fruttarismo sostenibile. Quello è un po' più difficile perché io amo la porchetta. Amo certe forme di alimentazione molto ma molto pesante. Magari comincerai a studiare il suo blog di ricette fruttariane e magari piano piano no? Senza scossoni no? Piano piano puoi... Perché poi alla fine devi provare perché tu non hai mai fatto a vivere da fruttariano per un mese no? A vedere... Non lo so come tu amichi. Vivere da fruttariano per un mese ci posso provare. Cioè ci sono alcune cose che nella vita si possono provare. Non tutte. Ma non ti sto chiedendo di andare con un trans in maniera facile. Ecco questo certo certo. Però per un mese anche perché io ti dico che per un mese e dopo un mese senti anche a livello psicofisico l'innalzamento dell'energia no? Dovresti provarlo dato che comunque alla fine non ti droghi. Magari bevi un pochino ma te ne so un pochino però non hai provato questa vera droga dell'innalzamento dell'energia no? Potresti provarla. Un mesetto. Forse perché siamo amici da tanto tempo fiducia nei tuoi confronti qualcosa posso andare a provare. Però ecco ti dico sono veramente un grosso peccatore sotto il profilo del cibo quindi io poi mi faccio tenda mi piace la carne al sangue cose che tu abborri dal punto di vista alimentare però ecco un mese lo posso fare. Un mese non ti fidi solo di me ma anche di Silvia li prendi dai. Certo certo anche più più piacevolmente che di te. Va bene. Dai allora ci vediamo in Abruzzo. Ti ringrazio molto saluto chi ci ha ascoltato e salutami Silvia e poi ci sentiamo appena arrivi richiamami mi raccomando. Sì sì ma tanto ci comunichiamo prima di arrivare. Va bene. Va bene. Ancora un abbraccione. A te. E saluta il tuo cagnone che non ricordo come si chiama. C'ho due. Io c'ho Gladio che c'ha undici anni e Decima che ce ne ha tre. Quattro. E Meridio quando è che lo prenderai? Ancora tu lo vediamo. Grazie buona serata. Ciao ciao.